Ho realizzato un'applicazione per telefonini e per iPad, a partire dalle citazioni dei brani di Mario Rigoni Stern, sono andato nel territorio, che poi è il mio territorio, ho fatto delle riprese, delle immagini, disegnato degli itinerari e fatto la geolocalizzazione, per cui con questa applicazione che si scarica gratis, sia per iPhone che per Android, si può andare a vedere i luoghi dove Mario Rigoni Stern ha ambientato alcuni brani di suoi libri, i suoi luoghi del cuore. Diciamo che dopo una vita in cui la tecnologia mi spaventava, negli ultimi anni mi sono appassionato e quindi ne ho visto le potenzialità. Ho detto perché non far vedere questi luoghi che sono i miei luoghi che mi piacciono molto e che Mario Rigoni Stern era affezionatissimo a più persone, in particolare ragazzi giovani che utilizzano di più questi strumenti. Da questa idea mi è venuto il progetto e poi l'ho realizzato con un po' di fatica, è stato molto laborioso, però è venuto un risultato, mi pare, è stato scaricato da 30.000 persone. Dopodiché, siccome non tutti utilizzano questi strumenti, abbiamo fatto anche una guida cartacea. Allora, diciamo che praticamente la guida cartacea è già la seconda edizione, ha praticamente gli stessi contenuti, quasi gli stessi contenuti, forma completamente diversa, però è andata molto bene, anche la guida cartacea continuano a chiamarmi per fare incontri, per parlare di Mario, perché è Mario Rigoni Stern che attira indubbiamente. Però adesso sto facendo un'altra cosa legata ad altri scrittori veneti, lo schema è più o meno lo stesso, i loro brani, i loro luoghi del cuore, descritti e geolocalizzati, come con i GPS che si usano in macchina, i navigatori con la macchina. Abbiamo solo l'itinerario che può essere per la bicicletta, a piedi, in macchina, a seconda di quello che uno sceglie. Io avevo un rapporto di amicizia con Rigoni Stern, di comunanza di interessi letterari, storici e di montagna, anche una passione per la natura, per la montagna. E quindi quando gli ho chiesto se potevo parlare con lui, è stato disponibile come era con le scolaresche, con i lettori, sono andato a trovarlo, è nata un'amicizia, da lì poi la passione e il desiderio di scrivere una biografia di uno scrittore che ha questo di paradossale, nonostante sia un autore biografico, che racconta la storia della sua vita, le tragedie della storia che ha attraversato, eppure ho potuto scoprire, capire che tanti aspetti erano rimasti fuori dai suoi libri per tanti motivi, anche semplicemente di ordine stilistico o per non gravare troppo le pagine. Lui era uno scrittore che non superava quasi mai le 110-120 pagine e quindi lavorava come il suo grande amico primo Levi più per togliere che per raggiungere e quindi di cose da raccontare ce ne sono santi. Ho potuto raccontare aneddoti davvero sconosciuti come il motivo per il quale ha meritato la medaglia d'argento in Russia è un atto di generosità perché con i suoi alpini del vestone erano stati lanciati contro le linee del Don e poi si erano trovati incuneati senza l'appoggio aereo di artiglieria promesso ai tedeschi. Viene ordinata la ritirata e il suo tenente vede che un alpino è rimasto indietro con un compagno ferito sulle spalle e sta per essere accerchiato e dice mi sono vergognato, ho detto torniamo indietro a prenderlo, quell'alpino rimasto indietro col ferito sulle spalle era Rigoni Stern e lui in nessuno dei suoi libri ha raccontato questa vicenda.